Non avevo neanche fatto in tempo ad accedere alla webcam, accidenti Questo è il mondo che si sgretola da solo, cioè tipo si rompe tutto quanto Accidenti tu, che schifo che fai Questo ragno qua mi infessa i miei mondi di Minecraft Ma non... Sono morto, non avevo fatto in tempo ad utilizzare il mio laser sbur No, 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 non di nuovo, mi si è bloccato, cosa? Un attimo, io lì sopra vedo qualcosa però Iscrivetevi per favore Raga, cosa? Perché c'è tipo Spider-Man? Che peraltro sta venendo a tipo attaccarmi Allora, non uso ancora il mio laser Aya No, invece devo usarlo Devo usare il mio laser sbur Ma è una candela, è una candela No, 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 è una candela Io avevo costruito questo laser perché io sono esperto in creazioni di laser Perché questa è diventata una candela? Allora, nord, est, sud, ovest Scrivetemi nei commenti Magari se volete che in un prossimo episodio andiamo a vedere tutti questi tunnel Chiaramente non ce la facciamo Io scelgo nord perché è il primo che mi viene in mente Vediamo un attimo qui Che cosa c'è? Corri però, veloce Perché non ho proprio il tempo da perdere Accidenti Ovest, nord, est Penso che sceglierò di nuovo il nord Perché Avevo scelto il nord Appunto decido di andare al nord Ho sentito un ragno Ne sono certo Dovemo stare attenti qua perché Perché Oh Allora, queste cose io so che fanno molto male Quindi non ci andrò sopra Assolutamente Cercherò di evitarle tutte Ok Perfetto Così Perfetto Oh no raga Questa cosa è pericolosissima Avete visto che cosa c'è qui? Ma ci sono tutte le pressure Per accidenti Io non ce la faccio a farle Come faccio? Ok, perfetto Vai tranquillo Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non sta succedendo assolutamente niente Io ce la sto facendo assolutamente Sì, sì, sì Devo dire che Sono esperto di queste cose Oh no Oh no Avete capito che cosa c'è lì dietro? Lì dietro c'è Spider-Man E io non posso nemmeno usare il mio Laser Sbur Perché Quello era potentissimo E l'avevo costruito io con le mie manine Però ha fallito come sempre I miei oggetti falliscono sempre Non preoccupatevi Cioè Sono Esperto io di queste cose Spider-Man lo faccio fuori Perché peraltro Spider-Man fa il verso di un ragno Chissà come mai, eh Stupido Spider-Man che non sei altro Iscrivetevi per favore